Le giornate di ferragosto sono le più importanti dell'estate e anche i VIP ne hanno approfittato per riposarsi in vista dell'autunno e dei vari impegni lavorativi Pure la cantante ha voluto rilassarsi ed ha deciso di trascorrere quei giorni in montagna e precisamente sulle meravigliose Dolomiti Insieme a lei l'inseparabile compagno Paolo Carta e l'adorata figlia Paola L'artista ha voluto condividere questi momenti da sogno con i suoi fan, pubblicando diverse immagini In particolare, quella che ha catturato maggiormente l'attenzione è stata la foto di famiglia Un vero e proprio ritratto che riprende tutti e tre, con la donna e la sua dolce metà intenuta da boscaioli Ma i follower hanno notato in particolare un dettaglio impressionante riguardante la piccola In molti si sono accorti di una particolarità nella bimba di soli sette anni L'istantanea è subito diventata virale e la Pausini non può che essere soddisfatta dei tanti complimenti ricevuti nelle scorse ore Continua dopo la foto, tutti hanno infatti potuto notare che sono praticamente identiche Una somiglianza incredibile quella tra mamma e figlia Infatti hanno gli stessi occhioni e il medesimo sorriso Nella didascalia a corredo dello scatto, Laura ha scritto, sono stati giorni bellissimi passati tra le montagne della mia L'aria pura e le passeggiate in solitudine sono state rigeneranti Ora è il momento di ripartire, ma non dimenticheremo mai questo viaggio dopo un lockdown un po' difficile Continua dopo la foto, la Pausini ha aggiunto, se siete anche voi in vacanza, divertitevi ma non dimenticate di proteggervi usando le mascherine Questo è importante per voi e per tutti gli altri Laura, Paola e Paolo I suoi seguaci hanno dunque commentato, dicendo che lei e la bambina sono due gocce d'acqua Paola è di una bellezza incantevole proprio come la madre Comunque adesso le loro vacanze sono giunte al termine e la musicista è pronta nuovamente a lavorare con ancora più determinazione Continua dopo la foto, nei giorni scorsi era stata osservata una grande somiglianza anche tra e sua sorella Silvia Toccanti sono state anche le parole che Laura le ha dedicato Chissà se da piccola, quando mi guardavi così come in questa foto, ti saresti mai immaginata la nostra vita di oggi? Quest'anno ci assegnate, ci sta ancora lasciando sospese e questa volta non è un gioco Grazie a tutti